Nessuna esitazione questa mattina per i genitori che non hanno mandato a scuola i loro ragazzi per protesta contro la decisione degli organi scolastici di ridurre da 3 a 2 le classi per le seconde, nonostante la presenza di ben 3 ragazzi colpiti da grave disabilità. Il decreto legge 78, ricorda la portavoce dei genitori, impone un limite ben preciso nel numero alle classi con ragazzi disabili. Che stabilisce in maniera inequivocabile il limite di alunni nelle classi frequentate dai ragazzi disabili. Questo numero è 20. Il picchietto davanti alla scuola ha ricevuto la solidarietà del sindaco Daniele Palombo accompagnato dal vice Giuliano Barbieri e dagli assessori Barbara Parone e Giulia Massari. Siamo qui insieme ai nostri genitori e ai nostri ragazzi in questi tre giorni di mobilitazione perché ci aspettiamo un risultato positivo da parte del TAR che si esprimerà il giorno 16. Anche i genitori degli alunni delle classi terze non coinvolte nel taglio hanno tenuto i figli a casa in segno di solidarietà. Poi la maggior parte dei ragazzi si è recata in parrocchia dove ha ottenuto ospitalità dal parroco Don Graziano Donà. I tre genitori che fanno parte del Consiglio d'Istituto hanno depositato una lettera con la quale in modo irrevocabile annunciavano le loro dimissioni dall'organismo scolastico. Noi diamo le dimissioni come genitori rappresentanti del Consiglio d'Istituto anche perché per ben due volte abbiamo sollevato in due diversi Consigli d'Istituto la problematica ma le risposte che ci sono state fornite sono state sempre molto evasive. Poi in Piazza della Repubblica in modo autonomo dalla protesta il PD aveva allestito una postazione con distribuzione di volantini in segno di solidarietà. Al presidio del PD era presente il segretario provinciale Paolo Calvano che poi ha anche incontrato i genitori in protesta davanti alla scuola.